Victor, sul podium della championship, cosa ti senti? È meraviglioso. Abbiamo avuto un buon start per la season, poi abbiamo iniziato a sfruttare un po' ma credo che abbiamo iniziato molto bene. Non preoccupare con un terzo, è fantastico per me e per la squadra. Cosa per questa ultima round? Abbiamo iniziato a sfruttare tutta settimana, abbiamo iniziato a mantenere insieme e fare quello che abbiamo fatto. Hai fatto un po' a rilassare, ma ho fatto un po' a rilassare in finale. E infatti l'ha fatto una volta iniziato a scoprire il finale. E' un po' a rilassare. E' un po' a rilassare, ma siamo ancora iniziati a sfruttare un po' senza rilassare. Abbiamo ancora un po' a rilassare. Abbiamo avuto un semplice di partita di te, ma adesso, come hai detto, qualcosa si è cambiato durante le primi r teach, cosa è successo? No, credo che il campo è stato molto forte, e l'Adri è una buona traccia per noi, perché abbiamo capito la traccia, abbiamo capito come gestire tutto, ciò 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 è stato molto bene, ora è più forte, non ho la stessa esperienza di tutti gli altri, che è davvero in questo traccia, in cui è molto forte, fa una grande differenza, ma credo che lavoriamo forti ora, e vediamo se possiamo tornare alla formazione che avevamo prima in l'anno. Grazie, felicità! Grazie.